Gli anni settanta sono un decennio Virulento, violento, complesso, dialettico Entusiasmante e allo stesso tempo deprimente La trasmissione mille luci è solo parte di un'esposizione imponente Colta a tratti visionaria della mostra TV 70 A me ha interessato molto personalmente Scovare negli archivi della RAI I primi passi dei grandi artisti italiani Che cercavano di relazionarsi con i media Chissà come si sarebbero relazionati oggi con i social media Per mio pensiero Tu sei regina Tu di mia vita sei lo slento